Eccoci ritornati, allora, ora dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare nelle parti superiore del castello, non gioco da ragazzi, non mi preoccupate, allora, prima di tutto dobbiamo sconfiggere questo qua, che spero che non sia così tirchio da non darci una carota d'oro, ma mi sembrava già stato, e muoviti però. Ma vaffanculo, due contro uno è giù, ma c'è stanco, ecco infatti, bravo, mi hai dato la carota, devi obbedire, ok, allora vi faccio vedere in pratica dove, qua ci servirà anche la formula della musica, per andare, per accedere qua, comunque, per andare sopra, E però non ci posso andare finché non abbiamo la formula della musica, comunque. La palla di ferro mi sa che pesa molto, ormai basta i panni, la alza come se fosse una palla da calcio. Ecco qua la nostra carotina, allora, prima di andare nel livello superiore, dobbiamo fare una parte che a me è messa sul belin, aspetta vediamo se è qua, alla torre si, ecco. In pratica che dovete fare? Dovete raggiungere la punta della spirale entro il limite di tempo, un po' fastidiosa come livello, come giochetto diciamo, E che mi gira la testa, e sicuramente la ti rompono il coglione. E allora... E allora che stanno lontano, ho fatto subito, eh? Allora, qua dovrei prendere la carota d'oro. Fa un culo, trago di merda. Ok, ho fatto... Anzi ho fatto subito. Pensavo di metterci molto più tempo, onestamente. Il checkpoint mi sembra... L'ho preso. Ok. Vabbè, finché non avete le formule questo livello è molto piccolo, quindi intanto ci ritorneremo. Vi farò vedere dove si trovano le scatole, eccetera, eccetera. Allora, le scopre non si possono sconfiggere e non vi danno niente, perché sono pirchie. Allora... Che difficile sconfiggere. Però mi ha scoppito, affanculo. Ahah. Allora... Allora, come potete aprire questo cancello? In poche parole più avanti ci sarà la formula del ventilatore, che ci servirà per andare sopra la torre. Sopra troveremo carote d'oro, una scatola acme e appunto la bandiera. Ma la formula del ventilatore si troverà molto più avanti. Eccolo qua. Quindi possono andare direttamente avanti, che tanto non possono fare niente. Sti draghi di merda che sembra che stanno portando. Stai, infatti sempre così. Stai, infatti... No, che spiga. Che spiga. Vaffanculo. e palle tutto il tempo, il giramento di palle queste scopole che sembrano che pallano la palla della casa linda se scopa, se spazza diventa la palla se scopa, se spazza, sta canzone fa pensare male siccome non voglio cadere di nuovo, passo per D4 perché non sono fissa cioè, ci dovevo pensare prima ok, questa è l'ultima parte in cui dovremmo scontrare i boss cioè le guardie reali questo va in giro, io vado direttamente qua ok, un orologio che sono le ore di ieri a quest'ora, bravo allora anche palle però quanti orologi ci sono fantastico e siamo a 7 ok ricordiamo che dovranno uscire questi nostri piccoli amici che sennò che non voglio andare al caldo è una bella calore, grazie ti voglio bene qua qua ci vedi meno male, sto cadendo strano che non sente caldo qua non lo so vabbè, non sente lì o nel Resident Evil 4 nel livello in cui c'è tanto fuoco figuriamoci qua qua un culo ecco, vabbè, vuol dire allora andiamo qua che poi è anche vero c'è bisogno di fare tutto sto giro comunque mi sembra che abbiamo preso tutte le carote quelle d'oro quindi posso andare avanti anche se se evitiamo qualcosa dobbiamo sempre ritornarci quindi non è un problema che c'è di conoscerti ecco, ti aiuto ad allungarti hanno sparito proprio ok ecco i nostri due boss ok oltre numero uno ok un po' difficilotto qua dovete essere veloci vabbè non è che ci sia tanto da fare eccolo qua uno ma corri, non ti fermarti e uno l'abbiamo sconfitto prendiamo la chiave ma vaffanculo vai a letto coglione ecco qua lo sapevo comunque qua dovete sempre girare perché questo qua vi schiaccia perfetto abbiamo finito ed ecco a voi finito vai fantastico comunque questo livello vi ricordo ci dovremmo ritornare altre due volte uno quando avremo la formula della musica e l'altro quando avremo la formula del ventilatore ottimo ah non rompere coglione oh bene questo è un livello piccolissimo salvare sì certo grazie cioè non ha fatto mai un cazzo poi si dice grazie ma va compriamo la carotina comunque qua abbiamo finito ci vediamo al prossimo livello un saluto speciale a salsella 1995 night knock 90 ragomorf medicate 45 segarista 918 eeeh beh vice naturalmente e comunque basta ciao a tutti al prossimo livello